Buonasera a tutti. Per prima cosa vorrei ringraziare il Teatro La Fenice per questo premio che racconta nel nome stesso il mio sogno di bambina che voleva raggiungere le stelle. Credo di esserci riuscita a mio modo con questa avventura fantastica che vivo da qualche settimana e che adesso brillerà anche un po' dello splendore di un teatro così prestigioso e antico. Mi piace l'immagine delle stelle perché credo che ci faccia sentire tutti connessi attraverso il tempo e lo spazio, tutti dentro al cammino dell'umanità che è intessuto di memoria e di futuro. Se mi guardo dentro vedo la musica, la poesia, la grande pittura, tante cose che mi riportano in Italia. Se guardo fuori dalla stazione spaziale internazionale vedo il futuro, il futuro di tutti, l'attenzione inevitabile alla pace perché siamo e saremo sempre più consapevoli di condividere tutti un pianeta che è meraviglioso, sì, ma anche piccolo e fragile. Grazie. Grazie. Grazie.